No al biodigestore, no a 105.000 tonnellate all'anno di rifiuti. Con cartelli e striscioni, una cinquantina di persone si sono presentate di fronte al nuovo municipio di Vallefoglia nel giorno dell'inaugurazione per manifestare la loro contrarietà al digestore che Green Factory vorrebbe costruire a Talacchio. L'associazione Diversamente per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del Foglia, anche tramite un comunicato, si è rivolta al sindaco Occhielli, ricordando le 5.000 firme raccolte contro il progetto di Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi. Ma come mai, ha chiesto, vi accorgete solo ora che il digestore da 105.000 tonnellate è sproporzionato alle esigenze della provincia? Noi lo diciamo da oltre due anni, è rivendicato. È sovradimensionato indipendentemente dalla realizzazione del digestore approvato a Barchi, proposto da Ferronia. La giunta comunale, ha aggiunto l'associazione, dopo due anni di silenzio ha espresso parere negativo e una serie a contrarietà, significherebbe che finalmente vi siete schierati con i cittadini, meglio tardi che mai. Lo hanno fatto semplicemente con un comunicato stampa e una lettera, mentre noi ci aspettiamo degli atti ufficiali che vengano presentati all'interno del procedimento, perché all'interno del procedimento in realtà Vallefoglia, il sindaco, non ha mai presentato alcuna documentazione di contrarietà. Essendo autorità sanitaria potreva invece sollevare le questioni sulla salute pubblica, così come sugli aspetti urbanistici e su quelli ambientali. Tutto questo non è stato fatto, oggi però vediamo che manifesta, almeno a parole, la contrarietà. Noi continueremo a vigilare e a verificare che questo poi corrisponda a dei fatti e a delle azioni, non semplicemente dei proclami e comunicati stampa. Per l'associazione il digestore anaerobico non è una scelta tecnologica obbligata per il territorio, infatti, si legge nella nota, per gestire i rifiuti organici ci sono altri modi, altre tecnologie meno impattanti sulla salute e sull'ambiente. In questo comunicato il sindaco poneva l'attenzione sulla convenienza economica, non è questo l'aspetto per noi rilevante ed importante, era chiaro che era un affare ed era chiaro che venisse fatto per quello, mentre noi da due anni diciamo che ci sono dei forti rischi, rischi potenziali per la salute degli abitanti, per il territorio e per l'ambiente. Queste sono le ragioni per le quali noi continuiamo ad essere contrari e soprattutto ci aspettiamo da parte di chi ci amministra che non faccia valutazioni economiche, ma faccia valutazioni per la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Continueremo a manifestare, assicurato il presidente, ad informare i cittadini e a vigilare sull'operato del sindaco. Noi chiediamo che l'opposizione che oggi il sindaco dice di manifestare o comunque ha dichiarato di essere contrario venga portata all'interno della conferenza dei servizi, è lì che deve essere fatta opposizione, è lì che si può fare opposizione, è lì che si deve impedire che venga realizzato il digestore. Tutte le altre cose servono probabilmente a scopo politico per lui, ma creano molta confusione nei cittadini che pensano che oggi tutto questo non possa più essere realizzato. Non è così ancora.